Questa sera parliamo di meditazione, ne parliamo con Selene Calloni Williams che ha scritto questo manuale Mindfulness Immaginale. Innanzitutto dobbiamo spiegare il titolo. Sì, allora con la parola Mindfulness facciamo riferimento alla meditazione così come viene proposta in occidente. E immaginale? E immaginale fa riferimento alla visione immaginale che è la visione di una certa psicologia di frontiera, una psicologia post-junghiana di cui è stato grande maestro James Hillman con la sua psicologia archetipica e anche a una moderna filosofia, la filosofia della complessità. Adesso vediamo invece qualche esercizio di meditazione semplice e anche perché può essere interessante o utile per ciascuno. Beh, innanzitutto si è appurato che la meditazione è molto utile per combattere stati emozionali come la depressione, la tristezza, l'angoscia che oggigiorno sono sempre più diffusi nella nostra società. Esercizi di meditazione riguardano la contemplazione e l'osservazione di ciò che è invisibile e quindi ciò che normalmente sfugge ai nostri sensi. Per esempio la meditazione sul respiro, il respiro è invisibile e la meditazione consiste nello stare nell'osservazione del respiro, per esempio gli organi dall'interno. Quindi la meditazione ci porta ad aprire dei sensi sottili, un occhio capace di percepire, di vedere tra virgolette l'invisibile. Mindfulness immaginale, il manuale di Selene Calloni Williams con Silvia Turrin, pubblicato da Mediterranea.